Ecco abbiamo voluto proprio dopo questo anno di pandemia dare un forte segnale di quello che è e che è stata e che dovrà essere la cultura sul nostro territorio. Quindi che dire facciamo un plauso a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questa bella impresa e di questo bel evento e sicuramente ci sarà un proseguo per il prossimo anno.